Nell'intervento serale di ieri in diretta su Cilento Channel, il sindaco Adamo Coppola è tornato a trattare la vicenda ospedale di Agropoli. Abbiamo a Vallo quattro pazienti covid, ce ne sono anche ad Eboli, quindi non possiamo dire che abbiamo liberato gli ospedali dal problema. Penso sia facile da affrontare, dichiara Coppola, lo spostamento dei pazienti ad Agropoli, visto che hanno un turno dedicato per loro. Basterebbe un po' di buona volontà e si potrebbe aprire quel pezzo di ospedale già pronto. In più, avendo due percorsi separati, si può continuare il lavoro di potenziamento sul pronto soccorso. Si può fare uno sforzo per partire in tutti e due i percorsi. Basta poco per dare alla popolazione un segnale. Poi il primo cittadino agropolese continua confermando la volontà di non fermarsi in questa battaglia. Ho parlato con medici che mi hanno detto che è possibile spostare questi turni dedicati da Vallo ad Eboli e ad Agropoli. Nulla cambierebbe se il turno verrebbe fatto qui dando un segnale importante per il rilancio dell'ospedale. Si sta giocando una partita ancora da definire e noi la giocheremo sempre con impegno. Non ci arrenderemo mai, conclude Adamo Coppola, e se ci sarà il bisogno di fare la voce grossa, la faremo.